Sì, sono prontissima. Oggi una bella notizia. Sì, dimmi. Ho deciso che per un giorno alla settimana, che è variabile, può cambiare, in questo caso sarà il venerdì, puoi stare tranquilla. Non si butta via niente, non si mette via niente. Un giorno è... Un giorno felice. Quindi oggi? Oggi c'è solo, sono contenta io. Oggi niente, non discutiamo. Non discutiamo oggi, no. Sei contenta? Sì, se vuoi, sì. C'è il caffè da bere, se vuoi. E qui comando io, devi stare zitto, devi stare zitto. Va bene questa nuova regola? Sì, sì, va benissimo. Hai preso la medicina? Hai già capito che ci vuole un metodo nuovo. Perché oggi che giorno è? Scusami. E ieri o giovedì? Hai ragione. Dobbiamo studiare un metodo. Devo pensare alla sera, da metterlo lì, se no non mi ricordo. Eh, devo scriverti. Mi alzo, mi alzo, ho freddo e mi sono tutti. Ma come è freddo? Non è acceso? Sì, è acceso. Con 22 gradi, come fai che è freddo? No, è acceso dappertutto. Ma come è freddo? Ma al mattino si alza, si è un po' pigri. Non sono sveglia, sveglia come adesso. La medicina non si può prendere la sera? La medicina, se si deve prendere il digiuno, come faccio prenderla la sera? Ma cos'è che stai dicendo, dai? Bisogna prenderla la digiuno. Eh, bisogna ricordarselo la sera. È l'unità. Eh, quindi oggi giorno di pausa. a fare fatto? A fare fatto, no.